oi uomo com'è? sono a casa si è tutto bene? ascolta mi hanno chiamato che hanno bisogno di una tazza va bene ok me la ridai? si si pronta? si ciao com'è? bene e te? normale sai al lavoro? si spiancaffè? va bene allora dove siamo? ascolta non vuoi un barile o due te? lo voglio? un barile o due eeeh potrebbe essere potrebbe essere si perchè sei giù di lì? no vado giù ora io aspetta un altro però dopo vediamoci si si basta che tu mi faccio sapere se si o no oh 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 eeeh uno va bene uno va bene ok si vede dopo eeeh a che punto tu sei mica tu ne hai visto animalacci perchè io sono già nell'ora del blocco no no non ci sono animalacci qui eeeh me eeeh 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 che ti a